Una cordiale buonasera dalla redazione di Firenze Smart in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra il bivio con la variante di Valico e Firenze in pruneta in entrambe le direzioni. Code per traffico intenso anche sulle ramo d'allacciamento con la 11 provenendo da entrambe le direzioni verso Pisa. Proprio in A11 a causa della viabilità esterna che non riceve si segnalano code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze e tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Code per traffico intenso anche in Fipilì alla Strassigna in uscita provenendo da Firenze e tra Scandice e Firenze Scandici in direzione Firenze. Città di Firenze per lavori di pavimentazione in via Pampalone a partire da stasera fino al 28 settembre in orario 21.6 chiusura delle strade afferenti alla rotatoria di via Pampalone e via Vezuoli e via di San Quirico. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!